Ciao a tutti, spero siate in forma. Ci incontriamo oggi per dare un'occhiata a 7 fantastici nuovi gadget che ogni uomo della catena dovrebbe avere a casa. Ma prima di andare oltre, ti ricordo che puoi trovare tutti i link in descrizione. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campana delle notifiche per non perderti le novità. Eccoci qui, diamo un'occhiata a 7 fantastici gadget che ogni uomo dovrebbe avere. La borsa degli attrezzi Spider è progettata per migliorare il comfort e il modo in cui trasportiamo i nostri utensili elettrici. Non c'è bisogno di andare in giro con una custodia o una grande custodia per i tuoi strumenti. La fondina è un sistema di trasporto montato sulla cintura. Basta legarlo intorno ai fianchi, attaccare l'impugnatura elastica che si adatta a tutte le impugnature degli utensili elettrici e farlo scorrere. Puoi anche inserire una vite extra piccola per rafforzare ulteriormente la forza di tenuta o creare un blocco di sicurezza. Nota tuttavia, che dovrai comunque stare attento quando ti protendi in avanti. Utensili elettrici più pesanti potrebbero scivolare fuori e ferirti accidentalmente. Per questo tipo di utensile si consiglia vivamente di predisporre il sistema di chiusura. È sempre utile dotarsi di un carrello a mano e anche se significa comprarne uno, il diavolo offerto da Cosco è l'ideale. Il carrello manuale consente di spostare carichi pesanti senza lesioni e sforzi. Il carrello è leggero e il suo design multidisposizione ti consente di trasformarlo in un carrello a quattro ruote come desideri in pochi secondi. Una volta che hai finito di usarlo, piegalo. Molto compatto, si adatterà a qualsiasi bagaglio di un'auto e non occuperà spazio in un garage. Per la trasformazione in un carrello, tutto ciò che devi fare è tirare la maniglia affinché la magia funzioni. Non hai bisogno di strumenti o di un diploma di maturità fai da te per utilizzare questo carrello a mano. È inoltre possibile modificare le ruote del dispositivo in base alle proprie esigenze. Quelli forniti con il diavolo sono piuttosto sottili e potrebbero non soddisfare le tue aspettative. Infine, la trasformazione in un carrello a quattro ruote e gestibile tramite grande molla ricorderà di prendere il tempo durante l'apertura per evitare che le dita rimangano intrappolate. Questa versatile cassetta degli attrezzi 12 in 1 trasforma gli strumenti portatili in strumenti da banco in pochi secondi. In particolare troviamo al suo interno un cacciavite, un seghetto alternativo, una sega circolare, una sega per traforo, un trapano, una sega a mano, un tagliafilo riscaldante e il tavolo che lo accompagna, una levigatrice da tavolo, una mini torre, una lampada da lavoro e una lanterna. Il convertitore consente agli strumenti da banco di funzionare direttamente dalla rete. Basta collegare la base a qualsiasi presa elettrica per avere accesso a tutti i tuoi strumenti. Non hai accesso all'elettricità? Nessun problema, c'è una batteria, così puoi usare la tua cassetta degli attrezzi assolutamente ovunque. Questo gadget ti consente di trovare tutti i tuoi strumenti preferiti in un unico posto. Tutto è facile da trasportare e consente di risparmiare spazio. Naturalmente gli strumenti soddisfano tutti gli standard di sicurezza, sono durevoli e facili da usare. Chi dice fai-da-te dice dolori, cattive posture e lesioni accidentali. Schuldi-doller consente di soddisfare le esigenze di trasporto di carichi pesanti, spostare oggetti di grandi dimensioni. L'accessorio è stato sviluppato da un traslocatore professionista per facilitare il sollevamento. Sebbene sia disponibile solo una taglia, può essere regolato a piacimento per adattarsi al tuo corpo. Per installare l'imbracatura, niente potrebbe essere più semplice, basta passare la parte a forma di X dietro la schiena. Successivamente, è necessario centrare la cinghia di sollevamento sotto l'oggetto da trasportare, assicurandosi che la cinghia sia sull'altro centro. Una volta fatto, devi solo regolare il cinturino alla tua altezza, inserendo il cinturino attraverso la fibbia e adattandolo alla tua taglia. L'accessorio è in grado di sollevare fino a 360 kg senza rischio. Lo shoulder dolly viene fornito con tutto il necessario per due persone. La spazzola spazzaneve è molto utile per chi vive in un clima nevoso. La spazzola può espandersi in due posizioni bloccabili, pertanto tutti i veicoli possono essere sgombrati dalla neve facilmente e rapidamente. Le dimensioni ridotte consentono di riporre l'accessorio senza occupare troppo spazio. Il raschietto è realizzato in nylon resistente e non abrasivo per evitare i graffi sul parabrezza. Inoltre, è dotato di un additivo antigelo per resistere al freddo. Una piccola guaina in schiuma elimina ogni rischio di graffi. Il tutto è montato su una lega di zinco e acciaio inossidabile per rimanere leggero e resistente a ogni urto ripetuto. È inclusa anche una custodia per riporre la pagaia ed evitare di sporcare il pagagliaio della tua auto una volta completata la rimozione della neve. Questa spazzola per la pulizia è appositamente progettata e per gli uomini. 3 in 1 soddisfa tutte le tue esigenze e si prende cura della tua pelle. La spazzola utilizza un avanzato sistema detergenze e antietati Sonic che ripara la pelle dopo la rasatura lasciandola morbida, fresca e luminosa. Il sistema antietà funziona grazie a 8000 battiti al minuto che si diffondono attraverso le protuberanze siliconiche permettendo una pulizia profonda che elimina il 99,5% delle impurità e del sebo in eccesso. Senza dimenticare le cellule morte della pelle, per una semplice pulizia applica semplicemente il tuo detergente viso preferito e pulisci con movimenti circolari sul viso per un minuto. Non dimenticare di risciacquare e voilà! Finiamo questo top con un orologio che sicuramente abbelirà i polsi degli uomini. Il Garmin Fenix 6 ha tutto per accontentare grazie alle sue numerose funzionalità. È l'ideale per chi vuole coniugare design e prestazione all'avanguardia. Ha un sensore di frequenza cardiaca e impulso simetro per aiutarti a gestire al meglio la tua attività. Il GPS integrato ti consente di navigare nell'ambiente circostante e senza paura. Alimentato a batteria, l'orologio ti dice in ogni momento quando è necessario caricarlo. Può anche essere associato a uno smartphone per consentire di gestire le notifiche e gli avvisi direttamente dal polso. Infine, è dotato di pagamento contactless brevettato dal marchio Garmin e quindi non devi più tirare fuori la tua carta per pagare. Tutto dal tuo polso. Ah, e naturalmente ti dice l'ora e il tempo. Ed ecco amici, è tutto per oggi. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace. Ti ricordo che puoi trovare tutti i link in descrizione. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di attivare la campanella di notifica per non perdere mai le nuove notizie del canale. Quanto a me, molto rapidamente troverò qualche nuova scoperta high tech. Abbi cura di te e ciao ciao! Ciao!